Come promesso vi dissi che vi avrei fatto vedere le riprese dei droni Mavic Pro 2 e Mavic Mini Eh sì, adesso ve le faccio vedere, siamo proprio in questo video, siamo nel video giusto E se avete altre domande scrivete nei commenti e io vi rispondo Faccio una raccolta e con il meglio faccio un video dove spiego questi droni per bene Sono bellissimi, hanno un potenziale assurdo E in questo video vedrete il potenziale dei Mavic Pro 2 e i Mavic Mini Dal punto di vista proprio di un filmmaker Anche se ancora li ho soltanto testati Sicuramente si può fare di più Anche se ancora li ho soltanto testati Anche se ancora li ho soltanto testati Grazie a tutti 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 Grazie a tutti